ciao a tutti rieccoci come sempre in affinity publisher punto di partenza anche se in realtà parlerò di affinity designer di una sua funzione però la vediamo dall'interno di publisher cosa che non avevamo ancora mai fatto perché nelle prove precedenti siamo passati da publisher a foto ma non siamo mai andati in designer la funzione che da sempre fa imbestialire ogni tanto il grafico che che lavora su più programmi e quindi non è molto pratico del programma che si trova sotto il main dello specifico come arrotondare gli angoli arrotondare gli angoli di un box è molto semplice lo si può fare da affinity designer appunto io mettiamo che voglia arrotondare un angolo di di questo box lo seleziono vado in affinity designer quindi ora comunque mi trovo all'interno di affinity designer come se avesse aperto il file qui dentro ed abbiamo questo fantastico strumento lo strumento angolo che si chiama col tasto c della tastiera quindi io clicco c e ho lo strumento angolo mi viene fuori questo puntatore molto simile a quel puntatore là ma in realtà qui mi è richiesto di andare a doppio cliccare la forma e poi a questo punto evidenzia evidenziare gli angoli disponibili io qui posso scegliere se arrotondare uno o più o più angoli nel senso che se prendo quest'angolo clicco sopra e trasporto giù come vedete mi mi fa già vedere in anteprima di quanto sto arrotondando quell'angolo quando rilascio il mouse cambiando strumento non vedo più niente l'angolo è stato arrotondato come ho sempre detto spesso in questo sistema di lavoro è un sistema che tende ad essere non distruttivo quindi riprendendo lo strumento io posso cliccando in questo punto resettare quello che ho fatto e ricominciare a modificare l'angolo posso modificare ecco se clicco una volta sul punto mi ritorna in vista il modificatore e posso andare a fare un pi tuning se clicco due volte qui mi si resetta lo strumento e ritorna all'inizio per fare più angoli con la stessa inclinazione ad esempio spostiamo questo box portiamolo qui in modo da vederlo tutto mettiamo ad esempio anzi facciamo un esempio con uno strumento con una forma che abbia più angoli come una stella disegniamo una stella e vogliamo che si arrotondino le punte della stella a questo punto andrò prendermi questo strumento selezionerò tenendo premuto shift tutte le punte che mi interessa andare ad arrotondare e poi sull'ultima opero l'arrotondamento che viene automaticamente eseguito su tutti i vettori che abbiamo selezionato come dicevo deselezioniamo il tutto lo riselezioniamo adesso è finito qui sotto teniamolo fuori lo riselezioniamo un'altra volta andiamo a riprendere lo strumento angolo clicchiamo su un angolo e abbiamo ancora la sua editabilità se io riseleziono tutti gli angoli contemporaneamente ho la rieditabilità di tutti gli angoli contemporaneamente per un tuning ulteriore chiaramente lo strumento vale sia sugli angoli concavi che su quelli convessi per cui anche su questo angolo qua io se voglio posso mettermi a dare un arrotondamento esterno di questo tipo ed è uno strumento efficace lo trovo efficace per quanto è semplice a livello visivo e per quanto è semplice di andare a toccare su ogni angolo posso fare ciò che voglio niente già fatto era la spiegazione di come fare un angolo arrotondato e l'abbiamo già vista tutti insieme grazie e buon lavoro ciao 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 ciao